Buongiorno, ormai col tempo che c'è qui, col fatto che fuori fa freddissimo e dentro non fa caldissimo però ovviamente fa più caldo perché qua dentro faranno almeno un 22 gradi e non ho ancora acceso il riscaldamento, attenzione, ho capito come fare quindi ho già un grande passo, c'è la condensa ogni mattina, adesso sono le 9, mi sono appena svegliata, pronti a questa faccia gonfia da sonno Ora faccio colazione e poi devo assolutamente uscire e mettermi a lavorare perché poi pomeriggio dopo pranzo devo riuscire e andare a fare una cosa fighissima ma lo vediamo dopo, adesso step by step Ieri è stato il Pepero Day, non vi ho ripreso perché sono stata con fidanzato, in realtà siamo stati qua, abbiamo visto un film molto tranquilla come cosa perché poi a un certo orario dovevo andare via perché lui ha due nipotini e doveva andare a portare il Pepero anche a loro E è venuto e mi ha portato i fiori, ora vi spiego cosa è successo, questa è la foto dei fiori, bellissimi ovviamente neri, viola e ovviamente mi ha dato i Pepero bla 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 Ho provato a tenere i fiori e raga letteralmente in 4 ore avevo la casa piena di moscerini e ho detto non esiste, quindi cosa devo fare? Adesso andrò da Daiso perché avevo visto una sorta di quadretto dove all'interno puoi mettere le cose Perché come vedete mi sono tenuta un po' di fiori e volevo plastificarli o metterli appunto in un quadretto per tenerli, quindi questa è parte della missione di oggi Ma prima di tutto ripeto mi devo cibare, ho anche comprato questo ieri dal convenience store, è un kit per fare kuromi, un giorno la faremo per fare tipo il cioccolatino di kuromi Ho proprio questo kimbap quindi penso mangerò questo Vi mostro cosa è stato acquistato da Daiso, prima di tutto questi rotoli per la cucina, adoro Poi mi servivano queste bustine per il congelatore, dopodiché una spugnetta per i piatti, io continuo a comprare spugnette per i piatti, non so Poi ho preso questo quadretto che dovrebbe avere tipo una patina di, sembra tipo silicone, dove all'interno ci potete incastrare le cose Proviamo, vediamo come viene fuori Oh invece ho preso questo, che semplicemente ha il vetro però ha il quadretto tipo di legno quindi E poi ho comprato questo qui, che è una cassettiera trasparentina per metterci il make up perché la parte tipo matite così è troppo esposta Sono sempre lì a pulirla dalla polvere, che poi neanche polvere ma essendo che sta lì nella cabina armadio, chiamiamola così Ci sono tutti i pelucchi dei vestiti, sapete, dei maglioni e mi da urto Tra l'altro non vi ho ancora fatto vedere la postazione make up per bene, è ancora un po' caotica ma comunque prima o poi Tutti questi fiori non so dove li metterò Che poi ho visto anche un tutorial su come tipo schiacciarli e seccarli nel microonde Solo che non ho la carta forno e non l'ho neanche trovata la carta forno quindi Questa qua si apre così, vedete che ha queste due robe e dentro ci potete incastrare qualsiasi cosa sostanzialmente una figata Allora il mio problema è che purtroppo ci metto tipo un fiore e è già finito lo spazio Ragazzi proviamo, cioè non ho idea di quello che sto facendo, non ho idea Non è male se non fosse che questo fiore è un pochino troppo grande Però manca qualcosa qua Però vabbè sono un po' soddisfatta, non so quanto dureranno ma è carino Passando invece al reparto make up A parte che dopo devo registrare una sponsor Quindi mi devo anche un po' sbrigare perché alle 4 e mezza dobbiamo andare appunto a fare questa cosa magica E devo anche appunto prepararmi Però vedete qui come stanno queste cose, non mi piacciono più niente Fanno tutta questa... non è polverina, sono tutti quei pelucchi un po' rognosetti E quindi se ci metto questo magari è molto meglio Vi dirò, non è male, ho un po' dovuto incastrare queste robine però meglio di prima E almeno qua è tutto chiuso Ora pranzo, così poi riesco a prepararmi e a fare tutto quello che devo fare oggi Mi sono finita adesso di preparare, tra l'altro che base flawless oggi Mi incappotto per bene, mi copro perché, ve l'ho detto, freddissimo Sono uscita stamattina appunto per andare da Daiso, sembravo un nomino Michelin Però vedevo che anche la gente sta cominciando a tremolicchiare, ve lo dico Vedremo Comunque la missione di oggi è andare a prendere il Lucky Draw dell'album di JK Purtroppo la versione che volevo io è a Busan Che bravi che avete fatto questa cosa, grazie E quindi insomma non mi pareva il caso di andare a Busan per una photocard Detto ciò vado a quello a Shincheon Che è sempre la M2U Che per fortuna è quello che mi sta un pochino più vicino E speriamo di prendere la versione che voglio Cristina stamattina è andata, ovviamente ha pullato la card che avrei voluto io Ma l'ha scambiata Quindi grazie Cristina Che non aspetta mai la sua amica qui presente Quindi spero di attuare questa missione da sola Buongiorno ragazzi Allora, cosa sto andando a fare stamattina? Sto andando a fare le unghiette È tipo otto mesi forse Che non faccio le unghie Quindi sono molto curiosa Questo è il primo, non c'è niente E sto andando in un salone fighissimo Dopo vi faccio vedere la inspo Ho dovuto fare una mezza corsa perché ho preso il taxi Perché ultimamente gli autobus mi passano davanti Ma apparentemente non è la fermata giusta Quindi o hanno fatto un refresh delle fermate a Seoul Perché sennò non capisco Quindi il taxi mi ha lasciata tipo lì in fondo Per fortuna sono in orario Comunque, questo qui è l'inspo delle unghie che voglio fare Kuromi, tutto un po' così E la pagina Instagram è questa qui Quindi staremo a vedere perché fanno delle cosine molto fighe Vedete, è tipo uno degli ultimi post Quella lì l'è fermata di Yongdonpo Market E qui c'è il negozio Quindi è uscita 2 Poi fa tutto l'angolo E questo appunto è il posto Gangnails Quindi vediamo cosa ci aspetta Sono appena uscita Ci ha messo esattamente 2 ore Velocissima perché Per fare le nails extension Più le decorazioni e tutto quanto Non vi ho ripreso i passaggi Qua nel vlog Perché vedrete il reel e il video poi su TikTok Quindi se volete vedere tutto Nei dettagli lì Ma guardate che meraviglia Perdonatemi Cioè magari per alcuni diranno Oh mio Dio tutte queste cose appiccicate sopra Io adoro Ce lo sapete Ormai faccio sempre così Quando sono qua specialmente Ce la sono bellissima La mia piccola Kuromi qua Mi portavo le unghie da un secolo Ma ci riabitueremo Detto ciò adesso stavo facendo i lavori Ci sarà un casino Vado a prendere Non so se la metro O l'autobus Dipende da quello che mi conviene Ma devo andare assolutamente al bagno Perché sennò mi sento male E a prendere l'acqua Perché devo raggiungere Jenna A Myeongdong Che io devo cercare una borsa E lei Deveva cercare qualcosa altro Sinceramente non mi ricordo Perché ogni tanto ci diciamo le cose E poi puff Oggi così Un po' malaticce Mi sento Mi sentivo di prendere un'altra piettina Io che combattio Che senso Perché ho detto Io l'ho setta da carne Ma dimmi tu Cosa hai preso Giù? Qual'era? Questo? Sì Sherrips E invece io Aspettate se lo trovo Invece Trovare Mi sono gestionata Mi meritavo l'ustione Ah c'è anche già Ecco qua Always basic Tastes like home Liter È la prima volta che faccio questa cosa Le gabbine insorbendono questi Sono i power bank Quelli monoufo Guardateli bene Questo viola Per l'iPhone mi ha detto Però la potete usare una volta sola Cioè che bastardata 5.000 won Sto fregnetto Fai prima a comprarti in uno gigante Cristina Che cacchio stai a fare? Mamma mia C'è sempre questa dietro Ogni porfa Devo riparare la clip La tengo Vabbè Il bello della live Va bene così Guardate viola Meno male che è viola Adorando Con la canzone qua Su 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 Myeongdong si comincia a popolare Ragazzi Verso le 4 mettono il bancarelline E infatti eccole qua Prima non c'erano ragazzi Oh sta caricando Adoro Allora c'è questo negozio A Myeongdong Ma non mi chiedete la via Eccola con le lucettine qua Quella è la via principale Comunque Sì vi potete fare le targhette Per le valigie Tipo così Guardate con i patch Seu Corian Ci fate cose Le potete uscire lì qua Ma che carini Le potete fare sia con la scritta macchina Che con le letterine Che ci mettete sopra Che carini Ciccina E qui ci sono Anche Le magalettere Oppure Le cose dei bici Pianivana Guardate Un cookie Un shuki Un mang Che deve essere aggiornato Buongiorno ragazzi Stamattina Non mi sento per niente bene Più che altro Mi sento quell'inizio tipo di Mali di gola Fastidiosissimo Speravo di evitare Ma effettivamente Sono due giorni Che esco E mi sento questa sensazione Quindi Non lo so Se sto facendo un buon lavoro Oggi Piove È grigissimo Era un po' che non pioveva Così tanto Vorrei stare così In tutto ciò Come il signorami Che adesso si sta alzando Perché sente I rumori Dell'amica che si sveglia In tutto ciò Domani dovrebbe nevicare Vi dico questa cosa Perché è assurda L'altro anno Eravamo qui in Corea Questo periodo Durante questi giorni Ho cominciato a fare Un po' Freschetto Perché io sono andata via Dalla Corea L'altro anno Intorno al 4 dicembre Una cosa del genere E mi ricordo che quel giorno Rosalba Appena Ero salita in metro Mi ha scritto Oh mio dio Sta un po' nevicando È precoce di un mese Rispetto all'anno scorso Se mai dovesse succedere veramente Ieri non vi ho ripreso Perché volevo fare un mini video Su TikTok Quindi stamattina lo monto Così ve lo carico E quando esce questo video Potete andarlo a vedere Sia su Instagram Insomma come al solito Mi è anche uscito un cosino Non capisco se è un brufolino O una bollicina Quindi ci ho messo un patch Nel dubbio Perché qua non mi è mai venuto niente Ora questa è una novità Molto bene E ieri siamo anche andate All'evento di Mixun Dove ci hanno dato un po' di cosine Adesso vi faccio vedere Poi sono passata da Tamburins Che ha dei profumi meravigliosi Vi giuro Io non sono una tipo di quelli Ossessionata con i profumi Cioè io mi compro l'acqua profumata E sto bene così Perché i profumi troppo forti Mi fanno venire mal di testa Perché ho un naso Molto molto sensibile Alle profumazioni Ma questa qui Mi ricordo che l'aveva comprata Alessia Forse chi ha visto i vlog Quando appunto c'era anche lei Se lo ricorderà C'è questa crema È una crema Raga una crema per le mani Che si chiama Bains E ha un odore così forte e persistente Che noi ce la mettevamo come profumo Cioè io me lo mettevo qua Nei punti soliti Insomma sotto dietro le orecchie Sui polsi Ma non sapete che profumo incredibile E quindi sono andata Me la sono presa Però ogni tanto ci sta Anche perché è una crema a mani Ma costa 25.000 won Però ne vale la pena Cioè è tipo veramente comprare un profumo Quindi vi faccio vedere Questa è la bustina dell'evento Come quella dell'altra volta Abbiamo giocato un giochino E io ho vinto questa Essenza qui Perché poi c'era anche Marco Soul Mafia Che mi ha detto Prendi quella col simbolino del legno Che in realtà era un fungo Perché ti danno la full size Bla 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 Ci sono riuscita Stranno perché di solito A quel gioco con le palle Ce la faccio mai Quindi appunto questa è l'essenza al fungo E poi nella bustina C'è il de plian con le tre essenze Guardate che bellina Tra l'altro tra qualche giorno Dobbiamo anche andare a fare Una masterclass con loro Quindi sono molto Emozione Vediamo un po' Cosa ci faranno fare Sono molto curiosa Di provare Questa essenza qui Alla centella asiatica Che questa qui Dicono sia ottima E poi appunto Sono andata da Tamburin Che anche solo la bustina È super fancy Cioè guardate Con questi pezzi di tessuto Addirittura Questo qui è il prodotto In questione E si chiama appunto Bain Ce n'era anche un'altra Coconut qualcosa O Rokonac Pensavo avessero anche Il profumo Invece a quanto pare Hanno soltanto la crema Di questa fragranza Ma vi giuro È meravigliosa Cioè addirittura Ci hanno il cosino Per aprire La pellicolina Avete presente Che di solito Anche nelle creme medicinali C'è qua il pirulino La girate E fate Pam Questi no Vi danno un tappino Addirittura Per fare Codesta operazione E bucarla Ma poi siete pazzi Ma siamo impazziti Vado avanti a polma Non avete capito Quello che sentivo Forte È l'alloro Poi ho scoperto ieri Come si dice alloro In inglese Perché ma chi cacchio L'ha mai usato E si dice Laura leaves Ora prepariamo il pranzo Gianna si è rimessa a dormire Oggi è il nostro Giorno di riposo Io Vabbè ovviamente Lavoro al computer Insomma Edito le mie rubine Faccio le mie cose Dopo dobbiamo andare A fare la spesa Dobbiamo prendere qualcosa Stavamo aspettando Che mettessero gli sconti Perché praticamente Dopo le 5 di pomeriggio Una cosa del genere Non abbiamo ancora capito Esattamente l'orario Però 5-5 di pomeriggio 5-5 mettono Alcune cose scontate Conviene C'è alla fine La stessa roba Aspetto E via Quindi ora Mi provare il pranzo Voglio provare questi Perché Signor fidanzato Me li ha Consigliati E mi ha detto Falli con I mandù Che sarebbero I raviolini Insomma Vediamo Perché non è che ho Proprio questa fame Di dire Mettici anche I raviolini L'altra volta Insieme abbiamo provato Quelli nella cup Però mi ha detto Che sono diversi Questi nella bustina Questi sono quelli Tipo al sesamo E erano buoni Devo dargli più fiducia Sul cibo Perché A volte sono un po' Questi sono i miei Trastici In generale Ma Non lo so Dovrei fidarmi Cosa fare Cosa fare Quindi proviamo Intanto per stasera Non mi toglie nessuno Il fatto che appunto Io andrò Comprerò il pollo E mi farò Le mie tortilla Oppure l'insalata Con il pollo L'avocado Poi comprerò i pomodorini E poi volevo ricominciare A vedere CSI New York Perché io mi ricordo Quanti anni fa Ma mi ricordo Che questa serie Mi faceva Sentire male Io da sempre Appassionata di true crime E ovviamente Essendo una serie tv Tipo Grey's Anatomy Per intenderci Perché credo Siano uscite nello stesso anno Non vorrei sbagliarmi Ma il concept è un po' Lo stesso Quindi Oltre alla serie tv Un argomento principale C'è poi tutta la storia Dei personaggi Vari in ciucci Che si mette con quello Con quell'altro Quindi mi ero anche proprio Interessata la storia E mi ricordo Che avevo anche provato A vedere gli altri CSI Perché c'è CSI Las Vegas Insomma ce ne stanno un po' Ma New York Mi piace particolarmente L'attore principale Chiamiamolo così Quello che fa il detective Quindi sto cercando Di ritrovare la serie online Da qualche parte E guardarla Altrimenti comincerò A guardare American Horror Story Coven Che è la mia stagione preferita Dovrebbe essere la terza Se non sbaglio O la quinta Guardate Ha una bella faccia Ci ho messo appunto Due raviolini E ora Me lo pappo Alla fine Non stiamo guardando Perché siamo i ami Ah Che bello paniglio Non stiamo guardando CSI Ma perché dovevo vedere Prima la riunione Di Sally in Sunset Buongiorno Stamattina neve ragazzi Letteralmente La vedete? Ma da un momento all'altro Mi sono svegliata apposta Presto Ma che carina Questa neve Boh Non so che il tempo Che non vedo nevicare Quindi per me è tipo Oh mio dio Il bello è che dava neve Dalle 11 E appunto Quindi io mi sono svegliata Alle 10 Per cui ho detto No Devo assolutamente Vedere questo avvenimento Ovviamente non è una neve Che attacca questa Però è la prima Quindi Un giorno da ricordare Oggi sono uscita Sono appena tornata Ovviamente mi sono scortata La macchinetta Quando mai? Ragazzi il giorno Che io comprerò Una borsa più grande Vorrà dire Che sarò diventata adulta Perché purtroppo Finora Continuo a comprare cose Ma non la borsa Perché tipo ad esempio Sono tornata a casa Vi faccio vedere Un po' degli acquisti Che ho fatto per la casa Perché ormai Io Da persona quasi adulta Perché Vediamo già Quando diventerò adulta Ripeto Quando avrò questa borsa Ormai mi caso Per le cose di casa Quindi Ero piena Vaporizzatore Non mi viene mai Il nome di sto coso Vabbè Comunque molto grazioso Qui vabbè Ho messo tutte le bottiglie D'acqua Perché non so più dove metterlo Là ci sono i croccantini E gli altri diversivi Ok Facciamo finta Che non ci sia E poi Non sapevo dove metterlo E ho preso questo Che è praticamente Il contenitore Per il riso Che poi voi In questo modo Fate così Lo riempite Per tutto E prendete il riso Che vi serve Una figata Inutilissimo Però Qui c'è tipo L'opzione Su Aliexpress Che se spendi Tipo 5 euro Puoi prendere 3 cose E arrivano In 2 giorni Letteralmente E oggi appunto Siamo usciti E mi ha preso Un Sony Angels Che ormai sono Introvabili Questi pupazzettini Qua Con le alette Il culettino Il pisino E questa è l'edizione Di Natale E ho trovato La stellina Ami E' qui che sta Finando di fare La sua pappa Quanti adesso Lo portiamo fuori Lo portiamo io E le mie multiple Personalità Perché Chi altro E fine Questa è Tutta la giornata Di oggi Breve Ma intensa Ha fatto Freddissimo Praticamente Con Signor Finanzato Siamo andati Al Palazzo Reale Che l'altra volta Non siamo riusciti Quindi stavolta Siamo andati Abbiamo fatto un giro Poi da lì Siamo andati Da Starbucks Appunto Da Chiopo Che serve la libreria Dove ho preso appunto Il Sony Angel Perché faceva veramente freddo Dove bere qualcosa di caldo Poi da lì abbiamo preso l'auto Avremmo camminato Se ripeto Non avesse fatto così freddo E siamo andati a Myeongdong Lui voleva vedere Il televisorino Quello al centro commerciale Con tutte le immagini di Natale E poi ho detto Vabbè Siamo qui Mangiamo dello street food Noi finendo In un ristorante cinese A mangiare Cha Chao Myeong Va benissimo così E poi mi sono presa Un Tangulu E fine Io non l'ho presa Ricoperta di caramello Perché non sono Una persona di caramello L'ho presa Ricoperta di cioccolato Ora appunto porto ami Chi sta facendo il pazzerello Mi strucco Doccia E fine di questa giornata Che deve finire Non mi era accorta Che fosse venerdì 17 Non so se voi siete team Venerdì 13 O venerdì 17 Personalmente Per la mia esperienza Mi porta più sfiga Il 17 Poi attenzione È stata una giornata Piacevolissima Però Anche meno Però sono felice In tutto ciò Che mi siano cresciuti Tantissimi capelli Non so se voi lo vedete Ma sono arrivati Qui E ho anche il cappellino Adoro Che mi siano cresciuti 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 Che mi siano cresciuti